Salve a tutti ragazzi, io sono Yadita, in questo video vedremo Come costruire un ponte velocemente su Minecraft I ponti sono basi volanti molto spesso utilizzate nei minigame di Minecraft Per esempio Bedwars, Skywars e Lucky Block Il processo fondamentale per costruire i ponti velocemente è avere un clic rapido Appena posizioniamo il primo blocco, iniziamo a correre e cliccare velocemente il tasto per piazzare il blocco E adesso sapete Questo è tutto, se volete potete seguirmi sugli altri social, in particolare unitevi al server Discord Se volete trovare persone con cui giocare, scambiarvi informazioni o parlare direttamente con me Trovate tutti i link in descrizione